Per l'ennesa ho volto un appello a Chiodi e a tutti gli altri, a struttura commissaria, noi siamo nell'emergenza, solo noi sappiamo come siamo messi, per favore lavorate per noi seriamente, velocemente, il commissario sta per accelerare le cose e non per frenarle, ma per favore non fate usi strumentali della nostra tragedia, non si sta morendo a Teramo, all'Aquila vi sono stati imprenditori e si sono suicidati, questo lo deve capire Chiodi, dovevi capire De Mattesse e tutti quegli altri che stanno a questo punto in modo stanco e senza passione a lavorare per noi. Perché il De Minimis non è stato attivato prima? Perché ci si muove solo ora? Questo non lo sappiamo, già in Europa hanno detto ma non capiamo perché, non si capisce, io credo che la vicenda sia stata eseguita in modo molto superficiale, se lei pensa che il decreto 77, parla della zona franca, e che la domanda in Europa è stata portata, il decreto 77 è del luglio 2009, la domanda in Europa è stata presentata a gennaio 2011, dopo due anni, mentre noi stavamo qui a morire di fame, e dopodiché fino a settembre si sono andati così male, con tale, diciamo così, superficialità, che il 12 settembre arrivò la lettera che ho poi rilevato io, rivelato e alla luce la quale poi ci sono stati questi due viaggi a Bruxelles, solo il 12 settembre, quando la comunità europea ha detto ma che cosa avete combinato, questi dati non vanno bene, quindi abbiamo perso a quel punto due anni pieni, d'accordo, sono andati chiaramente che sono partiti solo il 23 di novembre, cioè pochi giorni fa, quindi questo è, è lì del de minimis, si poteva partire, allora, autocritica, sì, io la faccio, mi sono fidato di questi signori. Quindi di chi è la responsabilità vera di questi ritardi? La responsabilità vera sa dove sta, è che tutto ciò che riguarda l'Aquila non si sta affrontando con l'emergenza necessaria, assolutamente necessaria, dettata dalla drammaticità nella quale noi conduciamo le nostre vite. E ora cosa ci aspettiamo? Ora ci aspettiamo, anzitutto, di partire subito del de minimis, adesso ci attrezziamo per il bando e starà a me adesso trovare i finanziamenti, perché i 90 milioni fino al 23 gennaio io ritengo non vadano toccati e deve partire questa operazione per il rilancio economico e produttivo.